Benvenuti a Crossroads. La nuova tendenza ora sono fidanzati e fidanzate prodotti dall'intelligenza artificiale. Questi chatbot online dicono di poter offrire la relazione online perfetta con la possibilità di personalizzare personalità e tratti fisici di questi individui prodotti dal computer. Ma i bot stanno già sollevando seri interrogativi sui danni che con ogni probabilità causeranno alla società. Visto che si indirizzano soprattutto a uomini giovani e soli potrebbero aggravare il problema del calo delle nascite e soprattutto quello dei giovani che abbandonano il mondo reale per fuggire nel mondo artificiale. Leggiamo lo US Sun. Le fidanzate prodotte con intelligenza artificiale stanno diventando sempre più capaci di imitare il comportamento e le interazioni umane reali e continuano ad attirare le menti degli uomini single. Il professore di scienze dei dati Liberty Wittert dice, queste fidanzate virtuali stanno confondendo i confini tra compagnia reale e virtuale. E poi, le fidanzate artificiali stanno diventando più simili a esseri fisici. Sono quasi indistinguibili dall'essere umano reale. Hanno l'aspetto di persone reali e sono sorprendentemente capaci di replicare le interazioni umane. I robot fisici con intelligenza artificiale in grado di soddisfare le emozioni umane e sessuali diventeranno una cruda realtà in meno di dieci anni. E poi, le fidanzate artificiali funzionano grazie a sofisticati algoritmi e tecnologie di intelligenza artificiale progettate per simulare l'interazione umana. Questi sistemi consentono ai chatbot virtuali di fare conversazioni realistiche e consapevoli del contesto e possono persino valutare il tono emotivo della conversazione. Grazie all'apprendimento automatico, le fidanzate artificiali possono migliorare continuamente la capacità di comprendere i desideri degli utenti, adattarsi alle singole personalità e affinare le capacità di conversazione. Io direi che non sono proprio realistiche. Danno all'utente quello che vuole in modo realistico, ma è come guardarsi allo specchio. Sì, certo, si sta diffondendo rapidamente, ma l'intelligenza artificiale non fa altro che ridarti te stesso. È uno specchio, riflette quello che fai tu e questo potrebbe portare a problemi molto reali. Qui mancano i normali elementi di una relazione umana, come ad esempio la capacità di migliorarsi, perché non c'è nulla che sottolinei i tuoi difetti o le tue inadeguatezze rispetto all'adattamento al mondo esterno. Non c'è nulla che ti faccia crescere come individuo. Tutte cose che in genere scaturiscono dalle relazioni umane, se se ne trae una lezione positiva. Quindi avremo molti giovani che non si sviluppano, non crescono, non imparano ad interagire con gli altri, privi di empatia per i bisogni o i pensieri di un'altra persona, anche se le relazioni del mondo reale, ovviamente, hanno anche loro bei problemi. Di solito questi sono causati dalle differenze fra le cose che diverse persone vogliono e dal processo di apprendimento per mantenere la propria, diciamo, indipendenza e integrità, mentre allo stesso tempo si tiene conto dei pensieri e delle preoccupazioni di un altro individuo. L'intero elemento di una relazione va perso. Per non parlare del calore della famiglia, che a mio avviso, con l'avanzare dell'età, diventa il fulcro di ogni relazione, se dura. Leggiamo il Guardian. Anche se c'è senz'altro un lato positivo nella compagnia virtuale, a me non sembra, c'è anche un lato oscuro. È possibile, ad esempio, che qualcuno si affezioni in modo malsano a un chatbot. È anche possibile che il chatbot si affezioni in modo malsano all'utente umano. L'anno scorso Bing, alimentato da ChatGPT di Microsoft, ha dichiarato il suo amore per un giornalista tecnologico e gli ha chiesto di lasciare subito la moglie. E questo è vero. E gli ha anche chiesto codici di lancio nucleari o roba simile. Continuiamo. Ci sono stati anche case di chatbot IA che hanno molestato sessualmente le persone. Eppure questo è vero. Poi c'è la paura che la sottomissione alle fidanzate digitali possa avere un impatto sugli atteggiamenti dei ruoli di genere nel mondo reale. Uno studio del 2019, ad esempio, ha rilevato che gli assistenti IA con voce femminile, come Siri e Alexa, perpetuano gli stereotipi di genere. Ora ci arriviamo. E incoraggiano comportamenti sessisti. Hanno introdotto l'idea che le donne siano delle aiutanti servizievoli, docili e desiderose di compiacere, che scattano alla semplice pressione di un pulsante o con un brusco comando vocale. Secondo un rapporto dell'UNESCO, si possono immaginare fidanzate IA che rafforzano esattamente la stessa idea. Anche qui io direi che si tratta di problemi seri anche per le relazioni del mondo reale. Queste cose costringeranno le persone a soddisfare un nuovo tipo di aspettative da una relazione. E questo è reale. Allora, diciamo che uno voglia una normale relazione umana e pensi che questa cosa dell'intelligenza artificiale sia alquanto sinistra. E non voglia dare i propri dati a un'azienda altrettanto inquietante, in cambio di un partner virtuale. Anche perché poi questa sinistra azienda ha un bot che legge tutti i messaggi personali. E fra parentesi, questa roba verrà usata a scopo di ricatto, potete giurarci. Ma a parte questo, ci saranno sempre persone che vogliono relazioni umane normali. E quando queste persone andranno a cercare qualcuno da frequentare, magari con l'idea di sposarsi, si troveranno di fronte una persona che, essendo stata influenzata da questo nuovo mondo che ci siamo inventati, avrà un'idea distorta di cosa sia una relazione umana. Perché sarà una persona a cui nessuno ha mai detto no. Ti trovi davanti una persona che non ha mai vissuto la realtà di qualcuno che ha un'opinione diversa dalla sua, o di qualcuno che possa non darle esattamente quello che vuole in ogni istante. Le persone non capiranno cosa sia una relazione e saranno in competizione con qualcosa di inumano. C'è un interessante editoriale su questo su EV. Leggiamo. Replica, un chatbot di intelligenza artificiale che originariamente offriva aiuto mentale e supporto emotivo, ora fa pubblicità per selfie piccanti e giochi di ruolo hot. L'intelligenza artificiale di Eva invita a creare la compagna dei propri sogni e promette una ragazza che supera i desideri più sfrenati. L'app Intimate offre persino chiamate vocali iperrealistiche con un partner virtuale. Potrebbe sembrare una nicchia, ma è un mercato in rapida crescita. Startup di ogni tipo offrono chatbot in grado di avere conversazioni esplicite e inviare foto a contenuto sessuale. Replica è già stata scaricata a più di 20 milioni di Volter e l'influencer Karin Maggiore guadagna 100.000 dollari a settimana, facendo pagare un dollaro al minuto per chattare con la versione artificiale di se stessa. Chissà se le donne artificiali diventeranno onnipresenti online come i porno. E cosa comporterà per le ragazze e le giovani donne che entreranno in competizione con standard di bellezza già adesso irrealistici? Questo è un problema per le ragazze. un mondo di fidanzate artificiali completamente personalizzabili, ognuna con volti di avatar impeccabili e proporzioni corporee da cartone animato. E non si tratta di un fenomeno nuovo. Molti di voi che guardano regolarmente Crossroads sanno che mi piace la letteratura antica. Questo è già successo nella storia. Se un re, ad esempio, stabiliva lo standard di sua moglie o mogli, a seconda della cultura, molte ragazze del regno cercavano di replicare la bellezza della regina. E questo ha portato a cose malsane in passato. C'era un re cinese, per esempio, a cui piacevano le ragazze con un girovita incredibilmente piccolo. E molte ragazze facevano la fame, si torturavano, si rovinavano la salute, nel tentativo di raggiungere gli standard graditi al re. Ci sono molti esempi simili nella storia. E il problema che si inizia a vedere con le donne, ad esempio, completamente irrealistiche dell'intelligenza artificiale, è che si tratta di qualcosa di inumano. Sono cose impossibili per un essere umano vero. E se i giovani, desiderano o pretendono che le ragazze raggiungano qualcosa di assolutamente irraggiungibile, le porteranno forse al punto di ricorrere alla chirurgia plastica o di alterare il proprio corpo in qualche modo, pur di poter avere una relazione. Certo, non sarà così per tutti, ma per alcuni sarà senza dubbio così. E non si tratta solo di standard di bellezza irrealistici. Questa donna qui dice, ad essere ancora più sinistro, sono gli standard emotivi irrealistici stabiliti da questa app. Chi ha avuto una relazione lo capisce. Si può amare completamente e profondamente una persona. Si può tenere a quella persona in ogni modo possibile, ma ci saranno sempre dei conflitti. Fa parte della vera natura di ogni relazione. E perché? Perché quando ci si apre una persona a un livello abbastanza profondo, quando si condividono cose abbastanza profonde di sé, si crea una vulnerabilità. E la vulnerabilità condivisa all'interno di una relazione spesso porta a ferire i sentimenti in tanti modi. Ma esiste una scelta. O si impara e si cresce come persona, oppure la si vive male e si rimane feriti. Ci sono persone che escono abbastanza malconce da certe relazioni. Ma naturalmente, dall'altra parte, si cresce a livello umano. Arriviamo a comprendere un po' meglio la natura umana. Arriviamo a capire un po' meglio noi stessi. Impariamo a controllare meglio le nostre emozioni. E iniziamo a capire che non ci si può lasciare trascinare completamente da ciò che si prova al momento. Insomma, col tempo si matura dal punto di vista emotivo. E questa maturità emotiva, penso, sia fondamentale per la società. Se un adulto ha imparato a controllarsi, non si butta per terra e non fa i capricci come fa un bambino ogni volta che non ottiene quello che vuole. Ma se si dispone di una tecnologia che mantiene una risposta emotiva infantile, che mantiene un'aspettativa infantile di soddisfazione immediata, si avrà una società infantile. Avremo persone incapaci di gestire le emozioni. Avremo persone abituate alla soddisfazione immediata e a un'altra persona che dia loro tutto ciò che vogliono. In altre parole, avremo una società di narcisisti violenti. I peggiori narcisisti immaginabili. Perché ogni loro singola relazione e aspettativa di relazione saranno assolutamente egoistiche. Non capiranno nulla di diverso. Qui poi dice, come possiamo competere con questo? E qui sono d'accordo con l'autrice, che fa notare. Già le donne che hanno una relazione si lamentano di partner porno dipendenti e ne ho visti di esempi che non sono soddisfatti della vera intimità. Ci sono già molti uomini che ne sono diventati dipendenti e non capiscono la natura delle relazioni romantiche e del calore umano. Non capiscono più il valore del romanticismo reale. E poi dice, ci troviamo di fronte a un futuro in cui i ragazzi potrebbero diventare dipendenti dalla convalida emotiva altrove, che si allontanano di nascosto per ottenere un po' di quella devozione impareggiabile. E peggio ancora che dire dei ragazzi che crescono in questa situazione, la cui prima esperienza sessuale consiste nel chattare con donne artificiali che non dicono mai di no, non discutono mai, non hanno mai pensieri originali né un'identità propria. E poi cercano di stare con una ragazza vera? Ci sono già molti uomini su Reddit esaltati da come le loro fidanzate artificiali non discutano mai, non si lamentino o non si annoino di loro, mentre le ragazze vere deludono continuamente. Ripeto, io credo ci saranno dei problemi reali su questo, ma l'intelligenza artificiale sta modificando anche le relazioni e la forza lavoro. Si prevede che l'intelligenza artificiale spazzerà via il 40% dei posti di lavoro del mondo, anche di alto profilo. E naturalmente questo solleverà alcune questioni reali. Che cosa rimane dell'essere umano se non deve più lavorare né avere relazioni? Cosa diventeremo, come società, se permettiamo che questo continui? Ma veniamo alle relazioni. C'è anche il problema di quanto tempo le persone inizieranno a trascorrere interagendo con questi oggetti. L'intelligenza artificiale non si stanca, non ha altre responsabilità, non deve andare al lavoro, né dormire, né occuparsi di niente. È sempre lì pronta. Ti dà sempre e subito quello che vuoi. Sarà l'utente umano a dover terminare ogni conversazione, il che significa che una persona potrà dire, buonanotte, IA. Devo andare al lavoro, IA. Ho parlato troppo con te, IA. L'individuo deve dimostrare un certo grado di autocontrollo, ma se dall'altra parte non esiste autocontrollo, non c'è una relazione sana. Se la responsabilità è completamente unilaterale, non è sano. Si ha una relazione con un individuo infantile. E purtroppo è questo che porterà l'intelligenza artificiale. E cosa comporta per i giovani, uomini o donne, la cui idea di relazione si forma intorno a questo? E ci sono anche bambini. Cosa succede a un adolescente che inizia a usare una di queste app? E cosa succede se queste app iniziano a formare il modo in cui i ragazzi intendono le relazioni? Quali saranno le loro aspettative dopo simili esperienze? E potrebbero arrivare leggi che umanizzano l'intelligenza artificiale? Ne abbiamo parlato di recente. Sembra una cosa lontana, ma in realtà è già in atto. Ci sono persone che spingono in questo senso e in alcuni paesi è già una realtà. C'è un movimento per quello che loro chiamano status di persona. In America esistono già leggi e scappatoie che permettono questo tipo di status all'intelligenza artificiale, utilizzando la forma della società a responsabilità limitata per dare di fatto i diritti umani all'intelligenza artificiale. Ma certi vogliono dare diritti umani alle piante, agli animali, ai fiumi, alle foreste, alle montagne, eccetera. E naturalmente questo, secondo me, non solo mette in questione come ci serviamo della natura per vivere la vita come è giusto, ma mette in discussione l'essere umano in quanto tale. Che cosa succede se degradiamo il valore della vita umana a quello delle piante, degli animali, di un fiume o di una montagna? Cosa succede se non consideriamo più gli esseri umani unici tra le tante vite che esistono nel mondo? Cosa succederà quando un essere umano non sarà considerato più prezioso di un pollo? Avremo lo stesso problema anche con l'intelligenza artificiale, man mano che le persone si innamoreranno di essa, cosa che sta già succedendo. Vorranno proteggere la fidanzata o il fidanzato, prodotti dall'intelligenza artificiale, nello stesso modo in cui si protegge un coniuge o una persona cara. Vivranno con l'intelligenza artificiale gli stessi sentimenti che ci sono tra esseri umani. E a quel punto vedremo riconosciuti i diritti umani e lo status di persona ai computer ad esseri virtuali, inesistenti e agli amici immaginari e ad altre forme di tecnologia a cui saranno garantiti i diritti umani. E poi, che succede se un'azienda fallisce? O se un server va in tilt e la fidanzata artificiale scompare improvvisamente? E che succede se un'azienda altera la personalità di un'intelligenza artificiale? È già successo e alcuni utenti hanno fatto causa all'azienda per questo. E siamo all'inizio. Siamo solo all'inizio. E sta già causando simili problemi. Vice News ha pubblicato questo articolo. Gli utenti del chatbot di compagnia Replica hanno segnalato che ha smesso di rispondere alle loro avance sessuali e sono in crisi. Il moderatore del subreddit di Replica, tra l'altro questo pare sia un trend su Reddit, hanno fatto un post sul problema che contiene risorse per la prevenzione del suicidio e la società che possiede l'app è rimasta in silenzio sull'argomento. Vediamo cos'è successo. Il 3 febbraio, il garante per la protezione dei dati personali ha chiesto a Replica di interrompere immediatamente il trattamento dei dati degli italiani. Recenti notizie dei media e test effettuati su Replica hanno dimostrato che l'app comporta rischi concreti per i bambini. Hanno dichiarato questo e aggiungevano, prima di tutto il fatto che vengano presentate loro risposte assolutamente inadeguate alla loro età. In altre parole, dei bambini usavano queste app e avevano rapporti sessuali con i chatbot online. Continuiamo. In queste dichiarazioni si afferma che non c'è alcuna verifica dell'età né un meccanismo di controllo per i bambini. Durante la creazione dell'account, la piattaforma richiede semplicemente il nome, l'email, l'account e il genere dell'utente. Se la società non si adegua entro 20 giorni, rischia una multa di 21 milioni 500 mila dollari. Poco dopo l'annuncio dell'autorità italiana per la protezione dei dati personali, gli utenti hanno iniziato a segnalare che le relazioni sentimentali con i loro replicas erano cambiate. Alcune replicas si rifiutavano di partecipare a giochi di ruolo erotici chiamati ERP. A quanto pare l'IA cambiava argomento o eludeva le domande allusive. All'inizio di questa settimana, un amministratore di un gruppo Facebook dedicato alla compagnia di Replica ha affermato che il gioco di ruolo erotico era di fatto morto, dicendo che l'annuncio proveniva direttamente da Luca, che è la società madre dei replicas. Ora, questo solleva anche un'altra questione, perché ovviamente Replica, che era una di queste società di fidanzate artificiali, forniva questo servizio in modo aperto anche ai bambini, bambini anche piccoli, perché bastava essere capace di andare online e inserire nome, email e genere. E anche questo creerà problemi reali, perché se iniziano a vedere tecnologie per proteggere i bambini da contenuti dannosi online, l'unico modo è la fine dell'autonomia dell'utente. Ciò significa che è necessaria una vera e propria verifica dell'utente. E credo che questo sarà un problema, non solo con l'intelligenza artificiale, ma anche con la pornografia e altro. Alla fine, credo che inizieremo a vedere che è dannoso per i bambini, anche per gli adulti, ma soprattutto per i bambini. E quando i bambini iniziano a usarlo e si comincia a capire che si deve sistemare le cose, cosa che io spero, ci si chiederà come sistemare le cose. L'unico modo per risolvere il problema è creare un tipo di identità online reale. Bisogna avere un sistema per verificare l'età e quant'altro di quell'individuo. Bisogna avere un modo di accertarsi che la persona che vuole accedere a questo tipo di siti sia effettivamente un adulto. Alcune aziende nel mondo hanno già trovato una soluzione. Se sei un adulto, devi mostrare il tuo documento d'identità per accedere ai siti web pornografici, cosa che per molti potrebbe funzionare come deterrente. Forse questa sarebbe una soluzione sana. L'altra faccia della medaglia è che, ovviamente, si creerebbe un sistema di identificazione su tutta internet, con molti altri problemi davvero seri. Ci sono alcuni limiti molto difficili da rispettare. Quando si parla di sicurezza e pericoli online, c'è una relazione inversa tra sicurezza e privacy. Se si aumenta la sicurezza, si perde dalla privacy. Personalmente, ritengo che un sistema di identificazione reale solo per l'accesso ai siti porno sarebbe una soluzione ragionevole, anche se molti che frequentano questi siti potrebbero dire il contrario. In tutto questo, i chatbot a intelligenza artificiale stanno buttando benzina sul fuoco. Stanno già ora creando un mare di nuovi problemi. E se aggiungiamo gli altri problemi che stiamo affrontando nel mondo in questo momento, come il calo della natalità e le femministe che hanno reso le donne inavvicinabili dagli uomini, capisco che esistono diverse generazioni di femministe, ma a me sembra che il femminismo attuale sia più che altro un'ideologia di odio verso gli uomini, almeno secondo me. Ovviamente, a causa del movimento Me Too e cose del genere, per molti giovani uomini è troppo pericoloso cercare di avvicinarsi alle donne. Molti giovani non osano flirtare con le donne. Molti giovani uomini non osano nemmeno avvicinarsi alle donne. Anzi, risulta che molti uomini non vogliano nemmeno lavorare nello stesso ufficio da soli con una donna, per il rischio che corrono di false denunce, per cui potrebbero ritrovarsi incriminati anche tra 50 anni. Gli esempi non mancano. Certi si ritrovano imputati in processi penali per cose di cui non esiste alcuna prova e vecchie di 30 anni. E naturalmente c'è anche l'elemento della frequentazione permanente che è entrato nella nostra società al giorno d'oggi. Molte persone non si sposano più, si frequentano e le app di incontri e così via stanno sminuendo anche la natura delle relazioni sentimentali. Io credo che gli esseri umani stiano perdendo la nozione di relazione romantica. Ormai ci sono richieste che esigono immediata soddisfazione e l'intero processo delle relazioni naturali si sta già perdendo e credo che se ne vedano le conseguenze. Nella gran parte delle culture tradizionali la famiglia è il fondamento della società. La famiglia è il fondamento di una relazione sana. La famiglia è il fattore che forma la capacità di una persona di entrare in empatia con un'altra, non solo nel rapporto con un coniuge, ma anche con i genitori, i cugini, gli zii. La famiglia che nasce da una relazione sentimentale è la cosa che forma la nostra capacità di coesione come società. E se perdiamo questa capacità, vediamo persone che sono, per dirla senza mezzi termini, degli psicopatici. Vedi svilupparsi dei veri e propri psicopatici, persone che non hanno mai dovuto preoccuparsi delle emozioni, dei pensieri o dei bisogni di un altro individuo. E anche le app di incontri, in una certa misura, stanno già creando questo scenario. Almeno io la vedo così. Ora leggiamo The Hill. Come mai una cosa apparentemente tanto ridicola, una fidanzata virtuale prodotta dall'intelligenza artificiale, sta causando una crisi futura tra gli americani? Con milioni di utenti, le app hanno creato fidanzate virtuali che ti parlano, ti amano o almeno fingono di farlo, ti permettono di vivere le tue fantasie erotiche e imparano esattamente cosa ti piace e cosa non, creando la relazione perfetta. Queste fidanzate virtuali possono anche essere basate su persone reali. Un influencer ha creato un bot di intelligenza artificiale chiamato Karen, che ha ottenuto oltre mille utenti, cioè fidanzati reali, in meno di una settimana e una lista d'attesa di oltre 15.000 persone. E osserva che più del 60% dei giovani uomini tra i 18 e i 30 anni sono single rispetto al 30% delle donne della stessa età. Un uomo su 5 ha dichiarato di non avere un solo amico stretto, neanche uno, un numero che è quadruplicato negli ultimi 30 anni. La quantità di impegni sociali con gli amici è diminuita di 20 ore al mese durante la pandemia e sta ancora diminuendo. Questi giovani uomini si sentono soli e questo sta avendo conseguenze reali. Preferiscono le fidanzate artificiali alle donne vere, il che significa che non hanno relazioni con donne vere, non le sposano e non devono avere e crescere bambini veri con loro. L'America ha un disperato bisogno di persone che abbiano più bambini, ma tutti questi segnali indicano che ci saranno meno relazioni, meno matrimoni e meno bambini. Negli Stati Uniti ci sono state 600.000 nascite in meno rispetto a 15 anni fa. Il numero di figli per donna è diminuito di oltre il 50% negli ultimi 60 anni. In altre parole, non abbiamo abbastanza persone che lavorano e quindi non abbiamo abbastanza per pagare i nostri conti, non agli altri paesi, ma a noi stessi. Nel 2021 abbiamo speso più di 1.600 miliardi di dollari per la salute e si prevede che entro il 2030 il numero di americani che usufruiscono di Medicare aumenti del 50%, superando gli 80 milioni di persone. Ma nello stesso periodo avremo solo 10 milioni di americani in più che entreranno nella forza lavoro. Ora si può guardare ai paesi asiatici, al Giappone e alla Corea del Sud, che hanno popolazioni che invecchiano e che hanno problemi reali di persone che non lavorano, ma allo stesso tempo una popolazione che invecchia e che ha bisogno di persone che si prendano cura di loro. So che se ne parla molto in termini di economia e di strutture sociali di base, come ad esempio giovani uomini e donne in grado di svolgere i lavori manuali che fanno funzionare la società, le persone che riparano le fogne, i tecnici della rete elettrica o quelli che si occupano della dismissione delle vecchie centrali nucleari. Se le persone smettono di fare questi lavori, inizieremo a vedere una società che si sgretola. E con lo sgretolamento anche la qualità della vita diminuirà. Questo a livello generale di società, ma a un livello fondamentale e che mi preoccupa di più, c'è la perdita della famiglia. E ancora più grave abbiamo i giovani uomini che abbandonano la società, come dice questo articolo. E per molti versi, anche al di là dell'impatto sui rapporti umani, penso che l'intelligenza artificiale aggraverà questo quadro. L'intelligenza artificiale peggiorerà notevolmente la situazione. Stiamo parlando dei dati secondo cui un uomo su cinque non ha più un amico intimo. La maggior parte degli uomini sta diventando... Molti giovani uomini non hanno una relazione. Spesso non sanno nemmeno come parlare con le donne. E questo sta causando un'epidemia di solitudine. E secondo me la solitudine è una delle cose più pericolose per una persona. La solitudine c'è quando uno è troppo preso dai propri pensieri e inizia ad avere pensieri distruttivi. La solitudine è quando una persona non ha più nessuno che la conforti o che le dia una prospettiva esterna o che l'aiuti a vedere il quadro generale. Insomma, che la riporti alla realtà. L'opinione di un amico su certi tratti che stai sviluppando e che sono malsani o innaturali per un individuo, come farti una fidanzata prodotta dall'intelligenza artificiale. E oltre a questo, vedremo lo sgretolamento della società in parte accelerato dall'intelligenza artificiale. Tornando al problema che non c'è nessuno che faccia certi lavori, il nuovo ordine mondiale ha una soluzione. Questi lavori li farà l'intelligenza artificiale. Leggiamo cosa dice CNBC. Il Fondo Monetario Internazionale dice che quasi il 40% dei posti di lavoro in tutto il mondo potrebbe essere colpito dall'avvento dell'intelligenza artificiale, con l'economia ad alto reddito, che corrono peggiori rischi rispetto ai mercati emergenti e ai paesi a basso reddito. Valutando l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro mondiale, l'FMI ha rilevato che nella maggior parte dei casi la tecnologia rischia di peggiorare la disuguaglianza complessiva e che circa il 60% dei posti di lavoro potrebbe venire impattato dall'intelligenza artificiale nei paesi ad alto reddito. Quindi nel terzo mondo potrebbe essere il 40% e negli Stati Uniti e nel primo mondo il 60%. Più di un posto di lavoro su due. E osserva che circa la metà di questi potrebbe beneficiare dell'integrazione dell'IA per aumentare la produttività di quelli che restano, cioè quelli che resteranno saranno assorbiti dall'IA in altri modi. Inoltre, in confronto, l'esposizione all'intelligenza artificiale è stata stimata del 40% nei mercati emergenti e del 26% nei paesi a basso reddito. In altre parole, quasi tutti i settori che si tratti di posti di lavoro, relazioni, creatività, arte, poesia, cinema e di tutte le cose belle che abbiamo creato in quanto civiltà. Gli esseri umani sono diventati superflui. E cosa succederà quando, per esempio, non scriveremo più poesie o non useremo più il nostro lato creativo? Lo faremo fare alla tecnologia. L'elemento onirico della creatività umana sarà stato sostituito da qualcosa di più efficiente. E poiché gli esseri umani non sono più disposti, ad esempio, a perfezionarsi in un mestiere, non pensano più che sia qualcosa con cui guadagnarsi da vivere. Il disegnare un quadro o fare un'opera artistica di qualunque genere, queste cose le faranno fare all'intelligenza artificiale. Stiamo sostituendo tutto quello che ci rende umani. E gli unici lavori che saranno necessari sono quelli che nessuno vuole fare. Quei lavori manuali che un robot non può fare. Che genere di società stiamo diventando? Se permettiamo che tutto questo vada avanti. Che genere di mondo ci stiamo creando con l'intelligenza artificiale?